Domani pomeriggio si torna in campo nei tornei di calcio a 5 nazionale. Nel campionato di A2 il Cielne Cuspolise al Pala Unimol riceve il Manfredonia. Alle 16 sul parquet Amico, i ragazzi di San Ginario sono pronti a blindare la salvezza. La sfida al Manfredonia, sotto di sole due lunghezze in classifica e generale, è probabilmente la più importante della stagione. L'obiettivo d'inizio anno dei cussini, lo ricordiamo, è la salvezza senza passare dai play-out. Certo c'è stata la bellissima vetrina della Coppa Italia, una posizione di altissima classifica per buona parte del girone d'andata. Tutto vero, ma il focus è, ed è sempre stato, quello di tenere a debita distanza la zona play-out. Oggi il margine è di 7 punti, un vantaggio che permette di dormire sonni tranquilli. Al contempo ricordiamo che ci sono due squadre nel campionato che stanno perdendo contro tutti, ovvero il San Michele ed il Futsal Bisceglie. Il Cusmo lì si ha già speso i due bonus, ovviamente nel ritorno, ecco perché la classifica va presa con le molle. Domani c'è la possibilità concreta di salire a quota 31, ma soprattutto distanziare in modo deciso una diretta concorrente. I pugliesi sono più squadra casalinga, il fattore vale molto per il Manfredonia. Infatti, all'andata, gli uomini di mister Monsignori imposero la prima battuta d'arresto proprio a Barrichello e compagni. Squadra pratica il Manfredonia con la terza miglior difesa del girone e uno dei peggiori attacchi da segnalare. Il pivot Andrea Ganzetti ed il laterale giapponese Gaku Miyazaki. Coach sanginario recupera Ferrante che ha scontato il turno di squalifica e Turek assente a Rossano Calabro per la convocazione con la nazionale slovacca. Insomma, tutti gli alfieri sono pronti per superare il Manfredonia a partire da Matteo Sbarichello in grande spolvero dopo la doppietta, inutile ai fini del risultato, messa a segno sabato scorso. Nel campionato di Serie B, chiamata la conferma la Chaminade dopo il successo contro l'Aquila. Bisogna vincere domani pomeriggio in casa della Polisportiva Torre Maggiore per continuare a credere nel sogno A2. Le distanze si sono allungate, il Capurso continua a vincere. Sabato scorso la capolista ha inflitto un 8-4 netto al Venafro ed il Giovinazzo ora ha meno uno dalla Chaminade ma ha già osservato il turno di riposo. Insomma, bisogna solo continuare a vincere e sperare in qualche passo falso delle prime due della classe. Domani in terra Pugliese e Rossoblu di Mister Tavone, che torna in panchina dopo il turno di squalifica, dovranno fare attenzione al Torre Maggiore che nello scorso turno ha espugnato il difficilissimo campo di Canosa con il finale di 5-2. Ricordiamo che il Torre Maggiore lo scorso anno ha ottenuto il pass in Serie B tramite play-off del campionato molisano. Ecco dunque un altro stimolo per i pugliesi che sono in piena lotta per la salvezza con soli 11 punti raccolti fino ad ora e una sola vittoria tra le mura amiche. Passarelli e compagni non possono assolutamente permettersi altri cali di concentrazione. Il recupero di Paoligno a pieno regime garantisce maggiore imprevedibilità alla manovra offensiva oltre le realizzazioni costanti di Caddeo, Pescola e Passarelli. Una vittoria necessaria per mantenere viva la corsa alla Serie A. Al contrario un altro stop pregiudicherebbe non poco i piani con un ridimensionamento rivolto alla griglia play-off. Mese intenso. Già si è giocato sabato scorso, si giocheranno altre quattro gare prima della fine di febbraio. Torre Maggiore domani, poi Real Dem, big match con il giovinazzo e chiusura sabato 29 contro le Aquile Molfetta. Mese assolutamente decisivo ai fini della classifica finale.